allora buongiorno amici miei bentornati sul canale voi sapete che mi sono dedicato per molti giorni alla vicenda legata al camper rubato a mondragone del cane rubato dentro al camper amo un dragone un video che potete vedere qui sopra dopo questa vicenda ci sono stati tanti malumori mi è dispiaciuto anche tanto sentire simone fulvio che sono tristi affranti delusi incazzati stanno vivendo un vero e proprio inferno al momento la cosa mi ha fatto pensare io da un paio di giorni dopo che gli ho sentiti l'ultima volta che non sto tanto bene cioè nel senso mi sono messo nei loro panni e mi sono chiesto ma se fosse capitato a me cioè se la gilli che vedete adesso in questo momento fosse stata dentro in quel camper se mi avessero rubato il camper con la gilli dentro l'anno scorso adesso sarei qua a fare video con una certa leggerezza tutte domande che mi sono posto questa notte non ho dormito proprio serenamente e la cosa mi ha fatto molto 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 riflettere più che altro per trovare un po di serenità verso questa coppia che adesso sta vivendo un momento brutto triste non so mi sento in dovere di di fare qualcosa non credo che la cosa abbia colpito solo me e quindi sono arrivato a una conclusione vorrei fare una raccolta fondi legata a questa vicenda mai fatta prima è un'operazione di crowdfunding sarebbe la prima volta per me in assoluto ottenendo ovviamente il consenso anche di simona e fulvio che una volta sentita la proposta si sono commossi nel senso che non si credevano di avere diciamo così tanta solidarietà da parte dei camperisti da parte di tutta la community di scadi si di scaldiano scusa sono un po sconvolto di tutta la community di sbragliando ma non solo di sbragliando cioè di tutta la community in generale dei camperisti su facebook youtube instagram c'è stata veramente tanta tanta unione ok a livello nazionale quindi non parliamo solo di mondragone ma parliamo proprio sul territorio italiano questo video ha fatto il giro questo racconto ha fatto il giro perché è stato eclatante il camper non era nemmeno assicurato quindi hanno dovuto rottamarlo perché al ritrovamento del mezzo si è constatato che mancava anche il motore quindi è stato sventrato di tutto accessori il motore insomma non c'è rimasto più nulla in tutta questa storia ovviamente la cosa peggiore però è la scomparsa del cane birba e ha fatto molto male soprattutto chi ama gli animali i soldi non possono far tornare indietro l'animale è vero non ha un prezzo noi quello che potremmo dare a queste due persone affrante è una mano un aiuto pensandoci questa notte ho realizzato che non è una cattiva idea nonostante io sia contrario solitamente a raccogliere fondi o comunque a chiedere dei soldi perché un grosso problema secondo me un grosso limite che ho notato sui canali youtube soprattutto nel mio settore quindi parliamo di plein air camper avventure tutto il resto è il fatto di chiedere facilmente soldi alla gente che ti segue per delle cagate per delle stupidaggini ecco io non voglio fare questo errore non l'ho mai fatto fino adesso non lo farò mai da qui in futuro e quelle poche volte che ho chiesto un aiuto da parte dei miei follower ma anche da parte di chi segue il settore era per un motivo importante per una questione di sicurezza o comunque un'urgenza mi viene in mente la faccenda di tiziano su in alta montagna l'anno scorso insomma in questo caso mi pare che non sia una stupidaggine mi pare che sia nobile poter tendere una mano nei confronti di chi al momento ne ha veramente bisogno offerta libera ovvio possono essere un euro cinque dieci cinquanta che ne so potete comunque seguire passo passo la clacson capisco che questo è un momento anche brutto per chiedere dei soldi anche perché viviamo in un mondo talmente di me che appena ti giri un po a destra e a manca c'è sempre qualcuno che te lo mette nel culo detta così come va detto si fa sempre molta fatica a organizzare queste cose e ad essere credibili soprattutto ma in questo caso la faccia ce la metto io nel renderla trasparente a tutti voi e soprattutto nel trasferire i soldi raccolti alla coppia interessata quindi amico mio se sei interessato la cosa quello che si chiede di cliccare il link sotto questo video in descrizione e seguire le poche istruzioni per fare una donazione di almeno un euro che dire ragazzi io vi ringrazio tutti quanti per aver guardato questo video e per aver ascoltato il mio appello adesso la cosa importante è quella di condividere questo messaggio condividere questo appello a più persone possibili quello che farò io adesso è di poter far coinvolgere anche miei colleghi del settore e miei amici youtuber in modo da poter fare rete sperando di arrivare a un buon risultato qualsiasi risultato esso sia sarà sempre un ottimo risultato perché il tutto è dettato dalla trasparenza e dal cuore quindi vi invito comunque nel frattempo ad iscrivervi al mio canale è gratuito ed è un gesto che fa sempre piacere se vi è piaciuto questo appello mettete un like sotto questo video e se volete rimanere aggiornati sui miei contenuti e soprattutto su questa vicenda vi invito a cliccare la campanellina in alto a destra e adesso rimbocchiamoci le maniche ciao ragazzi un bacio a a a a a a a a Grazie a tutti.